Il tibeto nostra è... Chi sei? Vai! Hai carta bianca! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! 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 No, è mia! No, è mia! No, è mia! No, è di Marta! È di Marta! Marta! Sì, mi sta venendo la sporcare a mezzo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tutta! Tutta Marta! Tutta! Oh! Al pilotto! Oh! Ti giuro, mi sto sentendo male io per... Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eh, se fai il pilotti... Cos'è? Se fai il pilotto in porca, ma... Ronda! 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 Grazie per la visione!